C'è tempo fino al 25 ottobre per proporre eventi, spettacoli e percorsi turistici da inserire nel calendario cittadino del Natale 2011. L'invito è dell'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli, che con un avviso pubblico apre alla cittadinanza per la programmazione delle iniziative da realizzare a Napoli tra l'8 dicembre e il 15 gennaio 2012. Dall'utilizzo di spazi alla promozione di eventi attraverso le strutture e i canali di comunicazione dell'ente, l'amministrazione intende offrire pieno sostegno alle iniziative pervenute, che dovranno coinvolgere il pubblico, soprattutto giovanile, ed animare le zone della città meno valorizzate. Le proposte contenute in una scheda sintetica di massimo due pagine possono essere consegnate personalmente presso l'assessorato alla cultura e turismo a Palazzo San Giacomo oppure inviate all'indirizzo email proposteculturalichiocciolacomune.napoli.it Non riusciremo a garantire supporti finanziari in termini di contributi, anche perché ci aspettiamo così tante proposte che non saremo in grado di soddisfare singolarmente le proposte, ma vogliamo mettere a sistema la comunicazione, la stampa dei materiali, quelle capacità di dare dei servizi da parte del Comune e dell'amministrazione per fornire in qualche modo un sostegno che possa dare la base su cui poi allestire le attività. L'assessorato al turismo ha promosso inoltre una ricognizione degli artisti e delle realtà che lavorano per la cultura, l'arte e lo spettacolo e degli scenari idoni all'organizzazione di eventi.